E' l'anno della fede e allora quale migliore occasione per ricordare sabato 15 giugno nella chiesa madre di Cianciana alle ore 18? Padre Gerlando Re, ci vuole raccontare la storia di questo sfortunato prete? Era il 1949 e Don Gerlando Re si stava preparando per la processione del Corpus Domini a Cianciana. Lui prete di Cianciana, quando sente dei colpi di arma da fuoco, quando c'è una sparatoria ognuno si chiude a casa, non esce, non fa niente. Lui invece cosa fa? Sentendo delle grida, sentendo dei colpi di arma da fuoco, esce perché era il suo dovere. Quando esce vede in mezzo alla strada due persone gravemente ferite in una pozza di sangue. Lui sente il dovere di soccorrere e di dare la soluzione. Mentre stava per dare la soluzione, ritorna l'omicida e chiede a Don Gerlando Re di non dare la soluzione. Tu non devi confessare. A questo punto il giovane sacerdote che aveva 33 anni si trova tra l'incudo e nel martello. Tra il suo dovere di dare la soluzione e una pistola puntata. Lui invece sceglie di dare la soluzione. A questo punto interviene l'omicida che spara contro Don Gerlando Re e lo uccide. E dunque noi abbiamo tre persone che muoiono, poi abbiamo lo stesso uccisore perché i carabinieri interverranno. Ci sarà un conflitto a fuoco tra lui e i carabinieri. Lui riuscirà a ferire un carabiniere ma un altro carabiniere lo uccide a morte. Vogliamo ricordare Don Gerlando Re nell'anno della fede perché lui con questo gesto eroico ha voluto dimostrare fino in fondo la fede. Spesso si sconoscono storie della nostra realtà come questa di padre Gerlando Re. Sì, noi abbiamo tante meravigliose storie di persone che hanno vissuto, che hanno fatto tutto il proprio dovere fino in fondo nella provincia di Agrigento. Come non ricordare ad esempio padre Vindi di Grotte o ad esempio Lina Lovermi di Canicattì o Angelina Tricoli di Ravanusa. figure eccellenti e a noi ha il dovere di conoscere queste persone, di farle conoscere perché siamo in una società dove i valori sono caduti. Allora come ritornare alla conoscenza dei valori tramite quelle persone che hanno fatto tutto possibile nella loro vita di vivere secondo questi valori. e questo lo abbiamo voluto fare nell'anno della fede e nel momento in cui abbiamo un grande Papa che è Papa Francesco.